no non posso non è calciatori che devo prendere quell'altra ah e va beh non viene lo stesso oppure con i capi di gialli o quals'altra un capo di basso e io a registro composto, la più bella secondo me è una cosa che preferivano, cioè mi vado a prendere stavo scorrendo per il vado a prendere probabilmente c'è solo un team ma sono stato fortunato che non ho preso in tizio solo uno e c'è la cappa di splash due scudini quant'eri a blu? ah comunque non ero una cappa ma un m4 ho sbagliato io ho due pompa se vuoi no non so ne spi... pompa quali? con l'automatico a 12 colpi ma c'è gente alle casette là eh come si ok ho trovato l'automatico questa infatti ah ok uno da me lo fai? forse si si atterrato c'è l'altro il compagno madonna ho c'è una mira pesto no no il caio deciso non c'è vita il fella allora è una ripirata non c'è vita ok ok oh dio c'è una mira di merda veramente dopo qua va mi aiutava c'è ora tutto penso ancora ma non ho preso nulla che skin è? cosa? ah sta qua sentito? si è tirato un qualcosa non c'è vita vai 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 non c'è vita vista la sopra sta non c'è vista oddio non c'è vita citte allora c'è si è alla piaggia ok si sono lì allora adesso questa non c'è veramente non c'è un challenge giù giù guarda perché le parti non c'è non c'è l'uia di giù guarda che le parti non c'è non c'è l'uia di giù 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 ci sono due con la skin data da 5 euro scopati malamente ok che due le ne si fatti? ah c'è 3 kg 3 oltre al corvo un altro team intero che aveva pushato pensa a costruire mezza scala legge in balsa sinistra aspetta l'uia di giù vabbè veramente mi è passata la voglia di giù ho detto infatti io che volevo staccare fin là sono arrivato però diciamo dai se tre kill ma non dar la carica perchè non ti giuro che gli ho scopati male che si può prenderlo quello hai idea si ma quello la hai visto visto gli ho dovuto fare 123 in testa e non era morto comunque hai tirato di tutto praticamente e pure la mamma ti ha tirato dobbiamo tornare su ai vichini dobbiamo prenderlo beh possiamo lottare anche qua volendo beh no lì c'è l'uomo c'è l'uomo ti lascio gli scodini qua eh tanto ne ho due giusti giusti non mi sono due ok aspetta riescare? mmm va bene finchè torniamo là sopra c'è una settimana no ah io ho perso vita tutto un altro ma non so perchè in realtà non riuscivo a prenderli fare il controllo è quello che andavo e manca di quel compagallone no col tattico ma questo è il loot di quelli che avevo ammazzato io eh il tuo loot invece sta ancora là per terra e non ho toccato niente ho preso solo il materiale ho preso solo il materiale che non ce l'ho neanche più perchè ho fatto le scale vuoi? e colpi? colpi si quello che vuoi tutto ok c'è pure una cassa niente di che niente di che tieni i golpi dove stai? ok 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 oddio ho la safe via 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 ma c'è 5 band e un merit io ho 5 band però e dovevo andare dietro pinnacoli e dovevo andare dietro pinnacoli una volta che ne leghi chiama sempre cosa oddio abbiamo perso tempo con riavvio io ho un medico e 5 band io ho solo 5 band quindi tutto bloccato che non ci sono più i redditi ma io sono contento in realtà io no dai c'è gente che fai da là davanti ok c'è la jump la salvezza oh no mi fa le scale ma io non so che si può salire anche saltando qua infatti in sud a quelle scale si deve salire saltando ah giusto qua non possiamo costruire ehm fai il giro così come ho fatto io dai c'è dai c'è dai c'è dai c'è più lontano possibile verso sinistra c'è un altro berri si o lo prendiamo al volo ci curiamo andiamo vabbè oh siamo andati estrema sinistra pure niente vabbè ci si sposta dai c'è 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 uno di video io sono indietreggiato un po' ok ti ho tirato dai c'è sai che fa il filo come dire è andato in ferimento gli ho tirato due e 26 così la smette di fa il filo dai vedi quel fuori ok porto io se vuoi se puntiamo al rift e ce ne andiamo io materiale sono messo piuttosto male aia devo tornare a testata a cucinare guardate dobbiamo passare in mezzo a due mech per andare in safe eh questa partita ha fatto gli sciamari anche secondo me ci abbiamo munizioni non c'abbiamo niente ok o troviamo la coppia scarsa della vita che c'è al mondo guarda abbiamo perso oppure prendiamo il mech ok lo puoi prendere anche da deltaplano adesso è rotto è sparito ma ogni quindici secondi rispondo anzi però aspetta c'è la via che non ci sta più la cosa che mi ha fatto il campo di distruzione brutto una cosa che mi ha fatto il campo di distruzione brutto questo è molto azzerato di materiale lo sai quindici trenta sessanta uff ah c'è un'altra cassa ed ecco e poi un punto di distruzione brutto assicurato e questo è buona prendo subito Diciamo che alla fine Non è neanche tanto le armi Sono i materiali che mancano Veno male con queste armi Si può pure fare Si parte la vita Davvero? Non lo sapevo Guarda l'acqua L'ho fatta a posta Tipo qua vedi tutta sta affara Tutta si perde la vita 400 di materiale me li sono fatti È poco però Un lavoro onesto Sì Sì No Prendiamo la zip saliamo? E qua di qua di andare Ok Oh Alla Ah safe, prendi quest'altra safe Comunque si, c'era gente che mi sparava da dietro No, sono colpito? Ma allo scudo Però ho inizio io che mi ha trovato Poi io ne ho fai il pavimento qua A me che situazione Ok Ma ci sento che su Ma poi c'è un... Eccala Sotto, sotto qua Vi si trova Libero Ma che un po' Andando sotto E io chiedo le sting Dietro, dietro, dalla struttura di pietra ma veramente 8 95 ammatterrato ammatterrato mi pare di tutto cittadini qua vattene vattene non ce la fai con la vita non me ne frega un cazzo oddio spero è lento c'è il faro alfa infatti voglio teniamo nel punto qua si io alfa non ti lascio oh bello hai notato colpi per caso? che voglia quali di basa ti saranno? assalto e pompa tanto i piccoli, 111 ah e così razzi se ce li hai no 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 ho tre giampa ah niente vieni qua, vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua diventa in fondo e poi tutto a sinistra tutto a sinistra tutto a sinistra tutto a sinistra mhm, visto ok alfa c'ho tre jump quindi la sinistra se ci avessi i razzi vabbè alfa da jump è l'unica cosa c'è sinistra, 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 sinistra però ma che mi ha mancato c'era uno che si era esposto tantissimo comunque fai così fai così purtroppo belli grazie e vabbè intanto in teoria ci sono i muri miei ancora dopo prima serve la jump vieni qua salta 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 ok veloce un po' giù al giuuu ma che vuol dire ma mamma non c'è il video le bende niente finito faccio no mi hanno aiutato in volo perchè ah eh io non ho niente purtroppo lì eso troppo però vabbè 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 le due ne avevo vabbè qua è sceso babbo ho fallò e scudini per te dove stai te? l'ho ammazzato ero andato a prendere l'aer drop c'è un medikit pure qua sotto dal tizio scara vai pigliati tutto scudini uno e due poi dobbiamo pure volare via di qua eh aprite 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 jump jump scusa scusa vai tranquillo vabbè hanno preso altezze chilometri scusa sempre davanti ai scuardo c'è una scuola sono tre brutissima safe di merda giri morto da caduta c'è di mazza c'è di mazza c'è stato 23 è anche a me sta bello 5 kill io 3 Oh che partita assurda comunque Cominciata di merda Stemita Di merda però